Buongiorno, sono Laura Antichi, vi volevo dire di un'altra novità di Google per Meet. Possiamo ora personalizzare la visualizzazione della griglia e settare il numero dei riquadri da visualizzare in una riunione. Sono diventati 49 i possibili. Vediamo come fare. Mi collego al link di Meet dalla classe, Google Classroom. Ok, disattivo un attimo la fotocamera. Faccio partecipa. Sono dentro Google Meet della classe. Vado a tre puntini e clicco su modifica layout. Come vedete mi viene restituita questa finestra e posso settare in griglia, agendo su questo tasto, il massimo dei partecipanti, 49, che possono quindi accedere contemporaneamente in griglia al web meeting. Thank you. Grazie.